Devo pisciare! Ecco, vuoi il tuo, io in pausa non è! Non ce la farei mai! Perchè la macchina, tu dini giù! No! Stop, ti ho fatto pure il culo! Ricordati, la matriciame con la pancetta, eh! Coinquilini di merda! Raga, sto preparando un nuovo post per il blog! Quale dei due? Questa o questa? Ma in centro? Sì! Io ho bisogno di due canizze! La barba non ci saranno due? No! Quando vai! Quanto c'è te con il mio sacchiotto? Posso usare per una foto? Secondo te? Rimettilo giù per il tuo cuore! Ciao ragazzi! Ciao! Bella! Allora mi metti? Eh no, ho ancora della roba da usare! Sì! 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 Cosa state facendo? Eh, niente Siamo sicuri? Raga, secondo voi, sul posto di questo outfit lo chiamo Safari Albania Ma quanto sono altri quei cosi, Ale? Abbastanza da tenermi lontana dal biscione di quel deficiente Dov'è? Dov'è cosa? Io lo scendo da qui finché non lo avete ritrovato Avete capito? Ciao Ciao Buon appetito!